Iniziamo questo meraviglioso Guarda! Questa meravigliosa città, che è chiamato Calcata, è molto vicino a Roma è un'ottima posizione in il parco di Treia e sul topo di un rock perché è arte per loro senza masterpieces dentro e siamo circa 30 o 40 km da Roma e è molto vicino a Bracciano Lake e se vuoi arrivare, vai a Roma, parte nortre di Roma, passate nortre di Roma e visitate, per esempio, questo meraviglioso parco e anche Bracciano Lake anche qui ora credo che potete vedere meglio questa città dove era chiamata un po' millennio per il King of Christ questa città è strana e magari un bel 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 la città è particolarmente interessante ma non possiamo ascoltare masterpieces di arte ma questa città è un'artista per loro perché è pieno di piccole strade questa città è una città è una città questa città è una città questa città è una città è una città che era chiamata portavamo in una processione, ma è stato scoperto in 1983, alcuni anni fa, ma è una storia offensiva, la storia offensiva dice che la città è stata scoperta, perché circa 1800 la città non ha voluto essere famosa, ma è stato scoperto tanto tempo che la città è stata scoperta in questa storia, strana, brutta storia, e la città è stata scoperta in 1983 la città non ha scoperto più di questa venerazione. La città è stata scoperta in questa semplice façade di questa città. Questa città, questa città, la città centrale, la città centrale, la città centrale, è una città molto verità. La città è stata scoperta in questa città, la città è stata scoperta in questa città. La città, la città, la città è stata scoperta in questa città, la città è stata scoperta in questa città. Città, la città è stata scoperta in questa città. molto bello molto bello per smogli passare il colbaccio pass 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 una nodata pass 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 Grazie a tutti